Un anno fa l'Inter Juve, lei arrivò sulla panchina dell'Inter subito dopo, 365 giorni sono passati, 365 giorni di grandi emozioni e in queste due settimane senza partite magari ci ho pensato anche un pochino di più. Speriamo che cambi il risultato rispetto a quella partita sicuramente arriva questo match molto importante, molto sentito, è una partita che se vivi l'Inter non puoi definire come le altre, se poi ci metti che incontri comunque la squadra che sta dimostrando di essere in questa stagione la migliore o comunque finora questo è quello che dice il campo, allora credo che gli stimoli e le motivazioni siano massime e per noi che sicuramente siamo in un momento in cui abbiamo voglia di dimostrare è la partita giusta per mettere in campo tutto quello che abbiamo e davanti ai nostri tifosi comunque fare una grande prestazione, poi sai quando giochi contro la Juventus a questi livelli è normale che sarà una partita, io sono convinto, aperta a qualsiasi risultato. Di sicuro, come abbiamo fatto all'andata, magari con una struttura e un assetto diverso ma ce la giocheremo esattamente come abbiamo fatto all'andata. Ciao Andrea, Antonio Conte in conferenza stampa ha detto che lui essendo un professionista allenerebbe anche altre squadre tra cui l'Inter, volevo girarti la domanda, tu alleneresti la Juve riusci da esserne tifoso perché sei professionista. Ma guarda, è ovvio che lui è professionista da molto più tempo di me e quindi probabilmente sa meglio di me come vanno le dinamiche in questo mondo. Adesso a me onestamente, anche se ovviamente è un grandissimo club, risulta difficile immaginarmi sulla panchina della Juventus, ma anche per una questione della mia giovane carriera, quindi non solo per una questione di… poi sicuramente magari dopo l'Inter, se fra 4, 5, 6 anni andrò via, magari un'altra panchina dai, non proprio quella. La seconda domanda ti volevo fare sul rientro dei nazionali, c'è stato qualche problema al volo perso da Guarin, quanto ti mette in difficoltà questa cosa o se ti fa arrabbiare, insomma come l'accepire? No, diciamo che abbiamo un po' la nuvoletta nera in questo periodo perché quando ho sentito che Isla era arrivato subito e Gargano e Pereira non erano riusciti a partire ho detto mamma mia, siamo un po' sfortunati, ovviamente per circostanze non dipendenti dalla volontà né dei giocatori né delle società, però io credo che in questo club, un club che ha tanti sudamericani, sono cose che possono succedere, ne è stato penalizzato anche Cavani o altri giocatori, quindi sicuramente non è una cosa fortunata perché alcuni giocatori li ho visti solamente questa mattina come Pereira Gargano, Guarin si sta allenando ora e va bene, non è stata una cosa fortunata ma credo che siano cose che succedono. L'ultima cosa, all'andata Marotta parla di spensieratezza, è di intervenire 3-1, ti chiedo un girone dopo, sei spensierato, come ti presenti a questa partita? No, vabbè, sono, sono, è stato un malinteso, poi ho parlato con lui, lui mi ha spiegato che non aveva detto quelle cose con quell'accezione, io in quel momento l'avevo interpretato così o comunque per me il significato era quello, ma come ho già detto è un episodio chiuso, anzi abbiamo avuto anche modo di chiarirci poi in seguito, quindi episodio assolutamente chiuso, io ho il mio carattere che alle volte mi dà dei vantaggi, alle volte magari qualcosina devo smussare, però episodio assolutamente chiuso. Andrea, volevo chiederti quanto ancora una volta sono state importanti le parole di Moratti che ha ribadito ancora una volta tutta la fiducia che ha in te. Sono determinanti perché come sbaglia un aggettivo io vengo travolto da un centinaio di nomi di allenatori, da trattative impossibili, quindi prego il Presidente finché ha fiducia in me di non sbagliarmi l'aggettivo che segue a fiducia perché, a parte gli scherzi ovviamente la fiducia del Presidente io cerco di confermarla ogni giorno. Lo ripeto anche alla vigilia di Inter-Juventus, ma non è una frase né retorica né per fare... è quello che penso, chi mi conosce lo sa, se il Presidente mi manda via stasera o fra tre anni io dovrò sempre dire solo grazie a Massimo Moratti, quindi questo con grande serenità. Il mio compito è solo di lavorare, lavorare al meglio e cercare di far fare più punti possibili all'Inter da qui all'ultima gara di campionato, quindi cerchiamo di ripagare tutti, io per primo, la fiducia del nostro Presidente con i punti. Un'altra cosa su Samuel, come lo utilizzerai nel senso è recuperato al 100% o comunque dovrai avere ancora un po' di cautela? Non vi nego che è il dubbio un pochino della vigilia, perché mentre per quanto riguarda alcuni giocatori magari ha un'opportunità sulle condizioni, lui mi riservo di decidere fra stasera e domani mattina. È ovvio che è un giocatore con cui ho la possibilità di sfruttare anche la sua esperienza, perché è un giocatore che se mi dice che c'è, c'è e quindi so di poter contare su un uomo che nel caso avessi bisogno di un suo, come posso dire, feedback nel rischiare o non rischiare, so di poter contare su di lui al 100%, ma fino all'ultimo allenamento è un dubbio che ci portiamo fino a domani mattina.